Top 5 cripto sulle quali investire a giugno. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo a guardare i grafici, torniamo a guardare le criptovalute, le altcoin non bitcoin, per cercare di rispondere alla domanda ma quali sono le top 5 di giugno, quelle che potrebbero performare bene a giugno ma soprattutto tenere il passo contro il re, contro bitcoin, quali sono quelle da tenere monitorati, queste sono le mie scelte, andremo a vedere i grafici, vi spiego quali cripto ho scelto per giugno, quelle da tenere monitorate e sulle quali eventualmente fare alcuni investimenti ma vi dirò anche come dove e quando e poi vi spiego anche perché. Come sempre prima di andare avanti io vi chiedo un super pollice per questi video ragazzi così mi date una mano quindi mi piace poi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ovviamente allora giugno è un mese molto molto complesso ragazzi perciò bisogna anche avere un'idea generale su quello che possiamo andare a creare per il mese di giugno perché perché se i mercati e le cripto a maggio hanno invertito un trend che ormai era bullish da quasi un annetto ovviamente giugno potrebbe essere un mese molto difficile quindi andare a cercare andare a fare cripto picking cercando quelle che sono le migliori le top 5 per il mese di giugno è assolutamente molto più difficile che farlo nei mesi precedenti ma noi non ci curiamo di questo e quindi andremo comunque ad analizzare alcune criptovalute che ho scelto per verificare e soprattutto per analizzarle in base al trend di bitcoin c'è una premessa da fare ragazzi se il trend di bitcoin a giugno si manterrà come quelle che sono i miei piani ormai avete imparato a capire questa cosa se non lo avete ancora visto andatevi a vedere gli ultimi video che ho fatto su bitcoin lunedì e venerdì perché sono i video di analisi generale su quello che è il mio punto di vista la mia aspettativa sui mercati sto attendendo che mi diano un livello di ingresso che potrebbe essere estremamente appetibile per giugno bitcoin sta facendo i suoi passi probabilmente vedremo insomma in questi giorni se riuscirà entro la prima decada di giugno a dare questo ingresso ma ovviamente ve lo spiego ve lo dico sia su youtube ma soprattutto sul canale telegramma ragazzi in descrizione canale telegramma gratuito mettete e iscrivetevi anche lì perché se c'è qualche aggiornamento sulla mia posizione lo pubblico come vi avevo promesso allora questi sono i grafici che ho già evidenziato e la il dogma sul quale si fonda questo video delle top 5 cripto sulle quali investire a giugno è un dogma molto importante la presunzione che il mercato non vada a crashare cioè che bitcoin soprattutto non vada a disegnare una candela ribassista mensile molto pronunciata questo significa che questo video è valido se btc si mantiene sopra i minimi del mese di maggio allora in questo caso queste top 5 cripto potrebbero performare molto meglio rispetto a bitcoin e quindi darci anche un leggero recupero un leggero rifiatamento di quelle che sono le posizioni che magari sono un bagno di sangue per molti probabilmente è così perché alcune posizioni sulle criptovalute sulle altcoin negli ultimi mesi non sono state molto semplici faccio anche un'altra cosa alla fine del video vi dico cosa sto facendo io a livello anche di trading con i miei portafogli vi do una una piccola chicca allora prima coin che ho messo nella mia top 5 per il mese di giugno è ave perché intanto tutte queste coin sono state analizzate con una logica di un mese quindi swing trading sulla base del grafico contro bitcoin e in time frame daily e weekly allora perché ave entra nella top 5 fra le cripto da sulle quali investire a giugno perché rispetto all'andamento di bitcoin conserva ancora un trend positivo ma non è sui massimi storici questo significa che nella sua fase di trend potrebbe performare bene e soprattutto amplificare i movimenti eventuali di bitcoin questo significa che se bitcoin a giugno riprende un trend non da boom ragazzi non da super pump non per fare nuovi massimi ma semplicemente un trend di breve che sia rialzista allora se btc riprende questo trend rialzista probabilmente ave potrà performare discretamente e soprattutto sovra performare bitcoin potrebbe essere quindi un buon investimento in questo caso per il mese di giugno quali sono i livelli da tenere a mente il primo è questo che vedete qui un livello di pullback molto rilevante che era quello del precedente massimo ma io adesso lo sposterei qui sulla parte più alta 0,0 12 e 5 contro btc perché questo livello è un livello di break molto importante se ave riuscirà a riportarsi e a chiudere una candela daily almeno sopra questo livello io credo ragazzi che potrà continuare a fare massimi storici contro bitcoin quindi prima delle top five per il mese di giugno entra ave ecco la seconda bnb binance continua la sua scalata al rialzo dopo questo trend incredibile che ha avuto da giugno da gennaio 2021 un trend che ha dell'incredibile contro bitcoin perché ha sovra performato bitcoin dell'894 per cento in sei mesi sovra performato bitcoin dell'894 per cento in sei mesi non parliamo di una coin con una capitalizzazione ridicola che può essere facilmente manipolata quindi una coin con 20 milioni di cap stiamo parlando di binance coin questa è una delle top five è molto importante capire questa cosa quindi il fatto che questa coin sia stata così forte contro bitcoin è molto molto importante soprattutto dava spazio ad una crescita per chi ovviamente era posizionato long su questa cripto molto più imponente anche in termini di btc quindi se io avessi voluto cercare di avere una rendita su bitcoin binance era sicuramente forse anche più di eteremo quella che era la coin predestinata per fare questo tra le altre cose è un trend ovviamente ad ascensore che non lasciava molti spazi però dal punto di vista di analisi tecnica non c'era una gran difficoltà su un trend del genere perché biananza ha dato diversi livelli di ingresso per entrare per chi l'ha seguita io li ho in stake ragazzi per le solite cose legate a binance però non investimenti secchi se non con i miei trading system allora questa è la seconda coin che entra nelle mie top five perché ha quasi recuperato totalmente la black candle settimanale che ha avuto nella settimana fatidica con il meno 38 per cento è importante questo recupero secondo me potrebbe sovra performare anche bitcoin nelle prossime settimane soprattutto se verrà breccato il livello di massimo è lontana dal livello di massimo sicuramente questa coin sarà più dipendente dal trend di bitcoin rispetto alle altre quindi è da attenzionare perché se bitcoin non mantiene il trend positivo ovviamente potrebbe soffrire però biananza in questo mese di giugno è importante non a livelli di resistenza rilevanti a parte questo a 0,0 12 e 9 88 circa che il livello importante ma sopra questo livello ritorna in price section scusate in price discovery e quindi non ha limiti non ha confini quindi biananza terza coin e seconda coin e terza coin invece nano ragazzi perché nano perché nano entra per la prima volta nella mia top five per il mese di giugno in questo caso è una coin che molti di voi mi hanno sempre indicato mi hanno sempre messo all'interno dei commenti io l'ho tenuto sotto controllo però volevo aspettare che facesse alcune cose perché comunque si parla di coin un po particolari dove non c'è un grande hype per esempio dove il team sta lavorando molto bene una coin una currency che viene utilizzata soprattutto per la sua velocità nello scambio in block centro che veramente istantanea quindi una ottima tecnologia poi io ascolto quello che mi dite all'interno dei commenti vado ad occhiare queste che sono le coin che poi ritengo più utili ed eccola qui nano ragazzi quindi scrivetemi nei commenti quelli che sono i progetti che voi pensate essere interessanti ovviamente non mi buttate dentro i soliti doge shiba eccetera perché ragazzi si riguardiamo però sempre con un occhio sopra io su doge faccio solo operazioni speculative di trading e basta ma certamente non la terrei magari in portafoglio per il lungo periodo non mi interessa ma con il trading invece si può fare granché allora scrivetemi nei commenti quelli che sono le coin che ritenete interessanti così gli diamo uno sguardo terza coin è nano nano perché perché non ha iniziato un gran trend contro bitcoin quindi potrebbe in un certo senso performare bene a giugno proprio in base al fatto che anche le correzioni del mese di maggio le ha subite ma non in maniera consistente tant'è vero che rispetto a bitcoin è ritornata a in termini di close della candela vi faccio vedere il grafico per esempio con la linea è ritornata ai massimi della ultima fase non sono massimi storici però rispetto a più di un anno e ai massimi conto bitcoin quindi si ha riassorbito abbastanza bene quelli che erano stati in dump della settimana catastrofica di bitcoin di fine mese di maggio e questo secondo me può essere un atteggiamento vincente quindi ha dimostrato forza probabilmente se bitcoin riprenderà un trend accettabile rialzista nano potrebbe sovra performare entra perciò di diritto e nella top five come terza coin un livello molto importante questo qui esattamente questo livello dove sta sbattendo già da un po' anche per questo secondo me è da attenzionare questa coin è un livello di pull up in questo caso di una precedente supporto molto rilevante quello che aveva tenuto in piedi la coin per tanto tempo se riuscisse a rompere questo livello di supporto probabilmente schizzerebbe vedete qui in maniera molto facile e stiamo parlando di un 60 per cento contro btc quindi interessante sia per un investimento trading da swing sia per un investimento un po più lunghetto perché ha un trend discretuccio contro btc ricordatevi però che queste coin un po più piccole soffrono molto se il mercato va giù quindi proteggetevi sempre io non do consigli finanziari ragazzi dovete sapere quello che state facendo quando mettete mano a questi investimenti perché le top 5 soprattutto per un mese e trading ragazzi non è investimento di lungo periodo quindi dovete avere le mani ok pronti a mettere stop take saper gestire il mercato allora andiamo alla quarta che è solana ritorna solana un capolavoro di trend contro bitcoin ormai da dicembre 2020 una cosa veramente spettacolare 2200 per cento rispetto a bitcoin solana vince probabilmente la gara di delle delle cripto importanti contro btc c'è anche tenta ovviamente che non la non la non che la vedremo tra poco però sarà sicuramente molto molto importante anche lei recupera il massimo storico contro bitcoin nella giornata di oggi quindi molto forte contro bitcoin mantiene il suo trend e riesce a gestire anche molto bene la fase di ribasso che era avvenuta a maggio nell'ultima settimana non ci sono particolari livelli di resistenza solana quindi entra di diritto nella top 5 del cripto sulle quali investire a giugno unica cosa da attenzionare secondo me è il fatto che abbia già nei primi cinque giorni di giugno fatto un bel rialzo quindi mi raccomando perché questa è una coin sicuramente che è molto buona a livelli di trend però già nel mese di giugno ha guadagnato rispetto a bitcoin il 24 e 28 quindi quasi 25 per cento e poi viene da 1 2 3 4 5 6 mesi totalmente verdi allora la cosa indica anche una certa forza del trend perché dietro in questo caso c'è un super progettone che sta facendo passi da gigante quindi non è una speculazione non è una manipolazione semplice però quando ci sono queste forti queste coin che hanno avuto forti rialzi magari utilizzate del money management con un position sizing differente in maniera tale da non sovra e pesare molto coin che hanno già dato tanto all'interno del mese quinta e ultima coin della top 5 poi vediamo solito un bonus ancora non lo so è teta teta ritorna perché teta è stata la top coin del 2020 contro btc ragazzi perché teta contro btc veramente ha fatto numeri dell'800 per cento nel 2020 ritorna quindi in questo caso a essere nelle top 5 guardate che cosa ha fatto forse una delle poche coin nuovi massimi storici tutta la fase di ribasso da marzo a maggio con una gestione assolutamente molto molto importante molto facile molto pulita della di questa correzione una correzione quasi salutare contro bitcoin e poi dal 17 maggio si rimette a salire e fa nuovi massimi con queste super due candele non ha mai invertito il trend contro bitcoin è rimasto un trend rialzista unico punto dolente questo livello che di nuovo il livello di massimo che ha mantenuto qui ora se riesce a chiuderci anche nella prossima settimana e a rompere questa fase questa fascia di prezzo probabilmente tornerà in price discovery e riuscirà a fare anche lei dei buoni gain allora ancora una volta più 35 73 già nei primi cinque giorni di giugno quindi se le prime coin che vi ho dato per le top 5 di questo mese e sono delle coniche magari hanno ancora strada fare ricordatevi che queste teta e solana hanno invece già fatto una buona strada contro btc quindi potrebbero magari soffrire più in là a giugno quindi mi raccomando anche in questo caso un po di attenzione alla position sizing ragazzi allora ho deciso di darvi una una doppia bonus allora volevo farvi vedere ad a e ad a e perché non l'ho messa né ad a n e th ragazzi non l'ho messa in questo caso dove mi sono perso e th allora troviamo e th eccola qui e th allora perché non ho messo né ad a n e th e th per un semplice motivo ormai dovete dovreste saperla questa cosa se vi ricordate il mio video sul target per il medio lungo periodo di e th lungo ovviamente intendo sempre sotturanno quindi medio periodo diciamo così di et h contro btc vi avevo detto che il mercato poteva raggiungere breccati gli 005 questa zona menzana di 0.07 poi con estensioni a 0,085 ma sarebbe stata dentro questa fascia un po di tempo bom ma va guardate che sta succedendo da un mese a questa parte due mesi a questa parte il mercato sta facendo esattamente quello che vi ho detto in quel video se non ve lo ricordate vi linko il video sulla mia testa andate a dare una occhiata perciò in questo caso e th l'ho lasciata da parte perché potrebbe ancora per qualche settimana non riuscire a rompere questa fase stessa cosa ad a perché intanto è molto dipendente dai th e poi soprattutto non mi piace questa fase di atteggiamento perché la vedo leggermente pericolosette quindi potrebbe fare questo atteggiamento qui e quindi sono state escluse per questo motivo per oggi è tutto allora cosa ne pensate quali sono le top five vostre per il mese di giugno io prendo sempre coin iper capitalizzate con progetti soliti alle spalle ormai l'avete capito non vado mai a presentarvi le top nella del video delle top five quelle che sono coin magari piccole con capitalizzazione bassa sicuramente possono fare grandi pump ma sicuramente se le cose ti mettono male ci lasciate le penne quindi preferisco ragionare in questo modo cosa ne pensate quali sono le vostre top five per il mese di giugno ciao a tutti noi ci rivediamo nel prossimo video